Regione, via libera rendiconto generale per l'anno finanziario 2022. Il Consiglio regionale si è espresso a maggioranza, con 23 voti favorevoli e 11 contrari. Sanità, nuova legge a tutela dei lavoratori esposti al caldo estremo. Approvata la proposta presentata dal Partito Democratico, primo firmatario Andrea Vannucci. Firenze Fiera, approvata la risoluzione del Partito Democratico. Entro il 31 dicembre, aumento di capitale per 28 milioni, ridefinizione della governance e sottoscrizione del nuovo patto parasociale. È stato approvato a maggioranza il rendiconto generale per l'anno finanziario 2022. La proposta di legge ha ricevuto 23 voti favorevoli dal Partito Democratico Italia Viva e 11 contrari da Fratelli d'Italia, Lega, Gruppo Misto Toscana Domani e Movimento 5 Stelle. L'atto è stato illustrato in aula dal vicepresidente della Commissione di Controllo, Andrea Pieroni, che ha spiegato che l'esercizio 2022 chiude con un saldo positivo di 533,95 milioni di euro. Andrea Viva ha votato a favore il rendiconto finanziario, è l'atto più importante di per sé di tenuta in equilibrio dei conti della regione toscana che dimostra essere in equilibrio finanziario, un atto importante che per noi è anche una vittoria di carattere politico. Abbiamo dimostrato in questi anni che non era necessario aumentare le tasse, che si potevano trovare le risorse, che si potevano determinare equilibri finanziari nel contempo erogare i servizi senza aumentare addizionale IRPEF, senza aumentare bollo e questa è la dimostrazione concreta che quando poi si chiudono i conti l'equilibrio finanziario si è raggiunto. Per noi è una vittoria politica importante che consolida anche la nostra forza e presenza nella maggioranza di questo Consiglio regionale. Noi abbiamo dato una interpretazione negativa dei quadri dei conti della regione su questo rendiconto 2022 e lo abbiamo fatto tenendo in considerazione come punto di riferimento i notevoli rilievi avanzati dalla Corte dei Conti, in particolar modo dalla Procura della Corte dei Conti e ovviamente anche dal Collegio che ha ricepito i rilievi, partendo da intanto una considerazione di fondo, cioè che sussiste, così dice la Corte, un disavanzo ancora importante che seppur in parte recuperato continua a mantenere un peso sui conti della regione toscana che è preoccupante e che soprattutto rischia di essere condizione per gli esercizi futuri, per i rilievi generazioni future. Il giudizio di parifica della Corte dei Conti ha denunciato quello che noi diciamo ormai da molto tempo, e cioè il bilancio soprattutto nei rapporti con le ASLE, quindi in ambito sanitario, non è assolutamente trasparente, è un bilancio quello della regione molto rigido, siamo tornati addirittura ad oltre 2 miliardi di indebitamento e quindi cresce il debito in capo alle future generazioni e soprattutto non si affrontano alcuni nodi strutturali come per esempio la riorganizzazione del personale. Rimane probabilmente il contenzioso sul personale di supporto ai gruppi consigliari e poi rimane soprattutto il capitolo delle società partecipate, su cui la Corte dei Conti ha per l'ennesima volta lanciato un allarme perché la regione investe tantissimi soldi con una capacità minima delle società partecipate di rendere servizi adeguati alle necessità. Un giudizio sul rendiconto complessivamente negativo, non fosse altro perché sono reiterate ancora una volta alcune criticità che possiamo sintetizzare sia sulla parte del perimetro sanitario dove la Corte dei Conti ha censurato sostanzialmente l'utilizzo di mutui che poi vengono a finanziare investimenti sul perimetro sanitario che però scontano da un punto di vista tecnico e contabile una sorta di non corretta imputazione. Ma al di là della questione più tecnica è chiaro che nella sostanza siamo di fronte comunque sia a una prassi che la regione toscana ha adottato almeno dal 2015 che sostanzialmente non ha fatto altro che aggravare uno squilibrio sulla parte sanitaria del bilancio che pare non trovare un riequilibrio nonostante gli sforzi che sono stati fatti. Questo perché siamo purtroppo di fronte a una programmazione, a un'organizzazione della parte sanitaria, quindi del complesso del sistema che ancora oggi non viene tradotta in politiche concrete. I rischi per i lavoratori esposti al caldo estremo avranno particolare attenzione nell'ambito delle politiche per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Consiglio regionale ha approvato con voto favorevole all'unanimità una proposta di legge in materia. La proposta, presentata da numerosi consiglieri del Partito Democratico e che vede come primo firmatario Andrea Vannucci, interviene sulla legge regionale 28 2019 per sottolineare, come appaia meritevoli di una particolare attenzione, il tema della prevenzione del rischio da stress termico negli ambienti di lavoro. Nell'atto si fa presente come il cambiamento climatico e il suo impatto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, in specie con l'aumento dell'intensità e della frequenza delle ondate di calore, assuma sempre più un ruolo cruciale. È una proposta che è diventata legge, che istituzionalizza anche riguardo al tema della sicurezza sul lavoro rispetto alle temperature estreme, il cosiddetto stress termico, quello che la legge prevede come attenzione in più per alcune situazioni localizzate geograficamente all'interno del nostro territorio regionale, ovvero il macrolotto di Prato e le cave nel Carrarese. Chiediamo quindi alle istituzioni, ai soggetti attraverso questa legge di mettere in campo una sinergia ancora più forte, di mettersi a un tavolo, stilare protocolli, accorgimenti, misure che mettano in condizione i lavoratori di svolgere il più serenamente possibile il proprio lavoro. È una proposta che in alcun modo limita la capacità di esprimere la produzione, ma tiene conto invece delle necessità anche dei lavoratori che a fronte di un cambiamento climatico, che in questi giorni abbiamo avuto modo di non apprezzare, ma di verificare con forza, e tenga conto di queste necessità. Ci sono operatori nel campo delle edilizie, nel campo dell'agricoltura, che si trovano nelle ore centrali del giorno sotto temperature incredibili a dover lavorare. Che cos'è che si chiede? Il rispetto di questi lavoratori, mantenendo lo stesso orario di lavoro, ma sposticipato dalle ore centrali e quelle più calde, il che non influisce appunto sulla produttività, ma salvaguardia invece l'integrità fisica e la salute del lavoratore. In Commissione Sanità avevamo già trovato una quadra sull'argomento, ma è una questione di buonsenso. Inizialmente in Commissione, devo dire, avevo avuto qualche remora per il semplice motivo che mi sembrava un eccesso di zelo, perché comunque i lavoratori sono soggetti alle visite del medico competente e conseguentemente pensavo che potesse essere un sovrappiù. In realtà poi, discutendo, credo che ribadire con una legge una questione di questo genere possa essere assolutamente utile. Doveva essere un intervento tempestivo da parte della Regione Toscana, così come lo hanno fatto quelle della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Doveva intervenire, secondo noi, con un'ordinanza che in condizioni particolari di stress termico, soprattutto per chi lavora all'esterno e non ha possibilità di ripararsi, nelle ore centrali della giornata doveva essere previsto la possibilità di uno stop e anche della cassa integrazione. Agendo in questo modo, con una proposta di legge che sicuramente è positiva, ma non risolve nell'immediato il problema, non si va al nocciolo del problema, che fondamentalmente è quello che attualmente fino ad agosto molti lavoratori saranno sottoposti a condizioni estreme e non saranno tutelati. Tutela che è innanzitutto a carico del datore di lavoro, ma in cui il soggetto pubblico deve fare la sua parte. La regione, soprattutto quando si tratta di controlli con le asle, per verificare dove queste condizioni sussistono o meno e poter agire. Aumento di capitale per 28 milioni, ridefinizione della governance e sottoscrizione del nuovo patto parasociale. Il tutto entro il prossimo 31 dicembre e una volta esaurita la procedura di selezione per individuare il nuovo socio privato. Questo è il piano di rilancio di Firenze Fiera, società che gestisce le principali strutture, Fortezza d'Abbasso, Palacongressi, Palaffari, adibita ad ospitare eventi, congressi, meeting ed esposizione a Firenze, di cui la regione detiene il 31,95%. Una situazione delicata dal quale Firenze Fiera deve uscire, la regione deve fare la sua parte, così come gli altri soci pubblici, ma anche con la ricerca di un patto nel privato che avverrà attraverso un bando di manifestazione di interesse. In altre situazioni questa presenza ha anche funzionato, ma dobbiamo cogliere questa occasione, così come abbiamo sollecitato anche in precedenza, per dotare la Toscana di un polo fieristico unico o comunque coordinato. Noi abbiamo tre strutture fieristiche, che è Firenze Fiera, sicuramente la più attrattiva dal punto di vista logistico, perché Firenze è ovviamente una città che è riconosciuta nel mondo, ma abbiamo anche la struttura di Carrara e la struttura di Arezzo. Ecco, in questo percorso che riguarda Firenze Fiera, l'invito che abbiamo rivolto all'assessore e alle giunte è quello anche di creare le condizioni e spingere perché in Toscana ci sia una proposta fieristica coordinata. Sì, ovviamente il sistema fieristico toscano ha bisogno di essere armonizzato, organizzato e programmato. Il nostro è un voto di fiducia sulla possibilità di portare intanto un partner privato, nella governance, di alleggerire ovviamente la dimensione e l'impegno pubblico, ma per cercare di rilanciare e migliorare l'integrazione tra realtà come Firenze, Arezzo, Carrara e non solo. Ci sono di mezzo anche le opportunità per le città termali. Serve integrare l'offerta fieristica e serve soprattutto fare un unico calendario a livello nazionale e provare a parlare una lingua sola per fare della Toscana un luogo dove le fiere vengono programmate, organizzate e distribuite su tutto il territorio regionale, facendone di questo un motore di sviluppo. In quello che ci è stato riferito si cerca un salvatore, si cerca qualcuno che ci venga a dettare le linee guida, che ci venga ad insegnare quello che invece un'amministrazione o una dirigenza deve saper fare. Cioè aspettare quello che il socio privato dovrebbe intervenire, al quale delegare completamente tutte le strategie, e sarà un socio, ci auguriamo, privato, che non abbia la maggioranza, io credo che questa sia la fotografia, purtroppo, mi dispiace dirlo, di un'altra eccellenza, così come il Maggio Musicale Florentino, così come Firenze Fiera, di un fallimento totale di un'organizzazione e di un'amministrazione. La decisione di non partecipare al voto, perché la risoluzione presentata dal Partito Democratico, aveva una parte estremamente condivisibile, che riguardava la volontà di creare un calendario unico, che è assolutamente necessario in Toscana, che coordini le tre fiere principali, cioè la fiera di Carrara, quella di Arezzo e quella di Firenze. Quindi quella parte lì ci trovava favorevole. Ovviamente nella prima parte del testo si esprimeva grande soddisfazione per la scelta della Regione Toscana su Firenze Fiera, e quello per noi era invotabile, inaccettabile, perché c'è tutto tranne che da esprimere grande soddisfazione. La Regione Toscana si appresta insieme al Comune di Firenze, insieme alla città metropolitana, a spendere in Firenze Fiera altri 16 milioni di euro, oltre a tutti quelli che sono stati spesi fino ad oggi, e lo fa su un soggetto incapace di fare attività imprenditoriale. Questo non lo dice Fratelli d'Italia, lo dicono i fatti. Firenze Fiera ha 15 anni che non chiude un bilancio in pareggio o inattivo, ne ha chiusi forse uno nel 2010, poi ha sempre perso, oggi ha un bilancio disastroso. Sicuramente la situazione di Firenze Fiera è una situazione delicata, ma che è anche sintomatica rispetto a una gestione delle società partecipate, che già la Corte dei Conti ha censurato sotto molti aspetti da parte di Regione Toscana. Si tratta molte volte di società che presentano bilanci in ritardo, di società nelle quali la Regione non svolge quell'attività, diciamo, centrale, anche di governance, che sarebbe richiesto, benché in Firenze Fiera abbia ad oggi esclusivamente un'attività di partecipazione. Si tratta di una situazione in cui la Corte dei Conti addirittura parla di salvataggio ad ogni costo, ed è proprio il caso tipico di quello che sta succedendo su Firenze Fiera, una società che ha delle criticità a livello di indebitamento importanti, una società che Regione Toscana ha deciso comunque di finanziare. Su questo aspetto, diciamo che, se da un lato si è cercato di ricomporre quella che era stata la frattura tra i soci pubblici, evidente rispetto alla volontà di dare continuità all'attività delle fiere, è chiaro che oggi si pone però il problema di cosa si voglia fare, soprattutto sulla struttura della fortezza. Ci sono in ballo lavoratori, c'è in ballo il futuro di un settore economico che dovrebbe essere comunque un valore trainante per l'economia toscana. Quindi sicuramente una scelta non facile.